Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figliolpodico 65 Aquila Scoop e di tutte le piattaforme dove siamo presenti con il nostro progetto editoriale Figliolpodico 65 Aquila Scoop. Ma cosa sta accadendo nella mia terra? Perché oggi la Puglia, il Salento e la Puglia intera è nell'occhio del ciclone? Perché Medeset fa questi reportage di minuti e minuti contro la Puglia, il Salento, di questi prezzi folli aumentati a dismisura in tutte le stazioni balneari? Che cosa sta succedendo in Puglia? È perché Flavio Briatore se ne esce con questa bomba e dice I prezzi che ci sono in Puglia non sono molto lontani da quelli di Monte Carlo. Addirittura lui dice che ha pagato per i pochi giorni che è stato in Puglia 60 euro, due lettini e un ombrellone. Va bene, a prescindere questo, ma a prendere le difese della Puglia non sono i nostri... E il Salento, visto che io sono un salentino, parlo anche come parte in causa. Quindi è a prendere le difese della Puglia e del Salento, in particolar modo bistrattata da Medeset, da Simona Branchetti, da tutti gli inviati e mandati apposta a fare danno, 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 senza che ci sia nessuna tutela politica. E mi riferisco alla Presidenza che vada via quanto prima il Presidente della Regione Puglia e Emiliano che vada via e soprattutto che vengano cambiati quanto prima tutti questi amministratori incapaci di tutelare le proprie terre. A difendere la Puglia arriva Ron Moss, il Ridge Forester di Beautiful addirittura, ad attaccare Flavio Briatore che ci ha distrutti. Ma Flavio Briatore molto veramente ce l'ha nera con la Puglia e con il Salento in particolar modo. Perché se ricordate, o meglio non ricordate, ma ve lo dico io che ero parte in causa e ho seguito quel fatto lì, Flavio Briatore voleva investire a Otranto, voleva rendere Otranto come le sue aziende. E non gli è stato fatto possibile, non gli è stato possibile. L'hanno fermato quando gli ha presentato i progetti, queste burocrazie del cavolo eccetera, hanno fermato questo imprenditore che dice che vuole fare, vuole fare, vuole fare. Chiaramente i suoi locali, basta vedere il Twiga, il Billionaire in Kenya, dove cazzo ce l'ha, a Monte Carlo, a tutte le parti del mondo, sono molto cari però siamo all'avanguardia. Ma noi veniamo massacrati da tutti i media, quindi Prezzi Folli, Salento, Ron Moss di Beautiful distrugge Flavio Briatore, non so chi sia, la Puglia come la California, visto che lui ha fatto molte e molte puntate, ha vissuto per diversi anni a Hollywood, Los Angeles, dove appunto si registra la soppopera Beautiful. Ma vediamo che cosa è successo e che cosa praticamente perché dobbiamo noi pugliesi non avere mai una nostra identità politica, non avere dei politici con le palle, non avere gente che ci tutela sotto tutti i punti di vista perché è vero, amici miei, è vero questo fatto che noi negli ultimi anni, negli ultimi due o tre anni abbiamo perso tanta gente, non c'è più il turismo di una volta e noi riusciamo ad affittare a malapena le case 15-20 giorni all'anno e molta gente fa di tutto per affittarle perché siamo in difficoltà, in forti difficoltà economiche. Quindi c'è stata una cattiva gestione da parte degli imprenditori e questo possiamo anche dirlo, ma sicuramente c'è stato un cattivo supporto da tutti i politici, dai comuni alle province che non contano più nulla, alle regioni e ai nostri politici che ci rappresentano a Roma. Ma entriamo nel caso. Quindi il nostro Rigi vive ormai da sei mesi all'anno a Fasano, dove ha comprato dei trulli che ha ristrutturato. Gli hanno chiesto al Corriere del Mezzogiorno, dove io ho scritto per tanti anni, che l'appendice pugliese del Corriere della Sera, quindi non è l'ultimo giornale e forse in Puglia, dopo la Gazzetta del Mezzogiorno, è il giornale più importante, visto che si tratta di un appendice, tra l'altro. Nei giorni scorsi l'imprenditore Flavio Briatore aveva definito i prezzi dei lidi pugliesi e salentini, in particolar modo, una follia per i servizi offerti e non lontani da quelli di Monte Carlo. Si parla di cifre che si aggirano intorno ai 60 euro per un ombrellone e due lettini. E a questo posso dire a Flavio Briatore non posso dargli torto. Non posso dargli torto, perché io vivo il Salento, so i prezzi del Salento e non si discostano molto da quello che dice Flavio Briatore. Quindi non sono stati i prezzi calmerati e non sono stati adattati alle esigenze del turismo, che è tanto in Puglia, è tanto perché siamo la regione con più mare, con più coste, con più lidi, siamo i primi in Italia e non solo forse in Italia. Andiamo avanti. Rommos, quindi, intervistato, non conosce Flavio Briatore. Dicono, ma hai saputo quello che ha detto Flavio Briatore riguardo a Napoli? Dico, io non lo conosco, quindi non conosco chi sia Flavio Briatore. Eppure ormai è diventato, fra i programmi sempre subito, se ti inreva molto meno, è diventato il nostro Flavio nazionale. Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Ampendice, Pugliese, del Corriere della Sera, l'attore diventato famoso nel ruolo di Rigi Forrester, in Beautiful, dice non so chi sia Briatore e non commento, sono estraneo a queste polemiche. Ma poi dice una cosa, ora che finisco il video, vedete, verso la fine, dice una cosa, Rommos, che mi fa cadere le braccia, ma anche a voi a casa, che state per sentire questo video. Dico solo che la Puglia è come la California, addirittura, ma non è il primo che lo dice, tutti i grandi attori, anche Richard Gere è stato qui in Puglia, ha detto mi sembra la California, infatti l'aspetto, il vento, il mare, il sole, sono come la California, che è lo stato più bello insieme alla Florida, degli Stati Uniti d'America, anche se la California è molto più grande della Florida. Il clima è lo stesso, quindi mi auguro che non ci sia tutto questo cirocco che abbiamo qui appunto nel sud. L'attore ormai da diversi anni, per sei mesi all'anno, si è spostato, quindi la sua residenza a Fasano, quindi in provincia di Brindisi, e lo si può incontrare al supermercato, al bar per un aperitivo, si possono fare delle foto, quindi parlare con lui senza, senza disturbare la sua quotidianità. L'amore di Rommos per la Puglia nasce nel 2012, quando tutta la troupe della soppopera Beautiful si spostò a Polignano a mare, per girare alcune puntate. Rommos si innamorò di quella terra, infatti Polignano a mare, provincia di Bari, amici miei, è molto bella, infatti non è la prima soppopera che si fa, ma anche molte nostre fiction si sono fatte lì, quasi tutte quelle che si fanno in Puglia si fanno in quella zona. Anche nel Salento, nella mia terra, sono zone molto molto belle dove sono state fatte telefixolo, basta ricordare il giudice Mastrangelo con Diego Abbatantono, quindi non sono proprio rincoglionito come qualcuno mi scrive nei commenti. Andiamo avanti. Quella terra lo ha lasciato senza fiato, si è stato amore a prima vista, è diventato tra l'altro socio, Rommos, della masseria paretano, a Monopoli, e da due anni ha comprato dei trulli a Fasano. Siccome Rommos fa adesso meno film, ha fatto anche Excalibur tra tanti film, che poi hanno vinto degli Oscar, ma lui non ha vinto nulla praticamente, adesso fa il cantante, fa musica country, e dice questo, stando qui a Fasano, in Puglia, provincia di Brindisi, trovo l'ispirazione per scrivere le mie canzoni, e ho creato il mio studio di registrazione. Da maggio a ottobre vivo con mia moglie Devin in Puglia, e qui praticamente il resto dell'anno, quindi sei mesi in Puglia a Fasano, e sei mesi in Arizona, Arizona che è uno stato dell'America del sud, degli Stati Uniti del sud, molto molto caldo, famoso per i suoi deserti. Andiamo avanti. Moss è stato conquistato dai piccoli borghi, molto diverse dalle queste città amplificate americane, dove tutto è grande. Amici miei, io sono stato una mezza volta, ed è tutto enorme. Dopo aver lavorato a Hollywood, e vissuto a Los Angeles, in California, per tanti anni, ho trovato il mio posto perfetto. è la Puglia, dice Rommos, a differenza. Però voglio dire, non dice mai nulla, su quanto riguarda i prezzi, queste cose, non dice che gli piace i borghi, gli piace vivere, eccetera, ma non dice praticamente nulla, di quello che ha detto Flavio Vinatola. Questi l'hanno intervistato, sono andati, i giornalisti che non sono gli ultimi arrivati, a fare l'intervista a Rommos, riguardo i prezzi della Puglia, questo è uscito con tutte altre cose. Vabbè, poi vedete la fine di quello che dice, secondo me, o non stava bene in testa. Andiamo avanti. Mi piace essere circondato secolari, chissà dove li vede, perché voglio dire, in Puglia, la Xylella ha fatto razzia, e tanti, tanti, tanti ulivi, milioni di ulivi, sono stati brutalizzati, senza che nulla, abbiamo già dimenticato tutto, tanti agricoltori, olivicoltori, eccetera, messi al bando, buttati a terra, morti di fame, la politica regionale non ha fatto nulla, nulla, nulla. Quindi lui sta in mezzo agli ulivi secolari, Romos, meno male, io qua non ne vedo, sto nel Salento dove è la terra di ulivi, io non ne vedo, sono tutti morti, anche in campagna, a casa mia, non esistono più, ne avevo più di 50, vabbè. Dice, guardo la natura che cresce intorno a me, lui guarda la natura che cresce, è poetico, è bucolico, è un virgiliano, se così possiamo dire, se dobbiamo guardare un po' ai grandi dell'antica Roma, e agli amici di Dante, vedere gli alberi che esplodono di frutta, che se importiamo la frutta da tutto il mondo, caro Romos, importiamo la frutta da tutto il mondo, se vai a parlare con chi, con gli orto frutti, ma io non lo so, vabbè, vabbè, non direi, insistere perché poi direi, mi metterai contro tanta gente, è meglio lasciar perdere, apprezzo il vino rosso, molto forte, è chiaro, nella zona dove sta lui, lo produce, Bruno Vespa, Bruno Vespa che ha monopolizzato il vino in Puglia, e lo vogliono ammazzare, perché ha distrutto il mercato pugliese del vino, Bruno Vespa, del giornalista della Rai, apprezzo il vino rosso, molto forte, la cucina sana, questo è vero, a differenza del cibo spazzatura americano, gli americani, tanto per rendersi conto, se abbiamo visto tanti film, e che ne fanno tanti, non hanno, possiamo dire, noi abbiamo la pizza, abbiamo la matriciana, abbiamo la carbonara, abbiamo tante cose che ci piacciono, loro non hanno un menu loro, non esiste, loro mangiano la cucina messicana, che è quella piccante, che ti fa esplodere il fegato, poi mangiano la cucina nostra, sono tanti gli italiani, che hanno avuto fortuna negli Stati Uniti, quindi quella irlandese, quella russa, ma loro non sono usciti in tutti questi anni, ad avere una propria cucina, quindi mangiano solo spazzature, tant'è vero che già a 18 anni, per i diabetici, per i glicemici, devono rifare i denti, vuol dire, sono tante le situazioni, purtroppo, che questa cucina maldestra degli Stati Uniti, costregge, chi vive in Stati Uniti, a fare degli interventi di riparo, e poi dice questo, dopo che dice, mi piace la natura, mi piace il vino, eccetera, se ne esce con questa cosa, che lascia praticamente sconcertato, lascia sconcertato il giornalista, che gli fa l'intervista, dice, i pugliesi, non si rendono, e quindi dà ragione, a questo punto, anche dice, non conosco Flavio Briatore, non mi interessa nelle polemiche, e poi dicendo questa frase assurda, alla fine, praticamente conferma, tutto quello, che ha detto prima, Flavio Briatore, con tutte le bellezze, che ci sono, questo dice in sostanza, Flavio Briatore, dice, con tutta questa bellezza, che c'è in Puglia, dovete scendere i prezzi, perché la gente viene, perché la Puglia, è molto molto bella, con i prezzi, che voi state mettendo, ai lettini, agli ombrelloni, al mangiare, stare in una stazione, balneare, un giorno, amici miei, hanno fatto l'intervista, ho visto, mi è venuto da piangere, costa 100 euro, quindi la gente, sceglie la spiaggia libera, a questo punto, la gente, sceglie la spiaggia libera, che sono, sempre di meno, le spiagge libere, perché purtroppo, con gli affidamenti, con, voglio dire, tutto ciò che va, voglio dire, al bando, quindi vengono assegnati, spezzi, pezzi, pezzi di sabbia, e quindi, la spiaggia libera, diventa sempre di meno, ecco come conclude, l'intervista, Ron Moss, il nostro Ridge Forester, di Beautiful, i pugliesi, non si rendono conto, non si rendono conto, della fortuna, che hanno, di poter godere, di questi luoghi, meno male, che ce lo dice lui, meno male, abbiamo scritto libri, libri sulla nostra bellezza, e io, non sono nessuno, e non voglio fare, nessun appello, certo, voglio dire, che, Flavio, Briatore, oggi 74 anni, uno dei più grandi, imprenditori, non in Italia, ma al mondo, che ha, centinaia e centinaia, di locali, più di duemila, dipendenti, pagati bene, a Dubai, Abu Dhabi, in tutte le parti del mondo, in Kenya, i miei genitori, quando erano in vita, ci sono stati, in un suo resort in Kenya, voglio dire, c'è il Tuiga, c'è il billionaire, voglio dire, tutti, tutti dicono, perché non investe lui, in Puglia, e perché non adegua lui, i prezzi in Puglia, vi posso dire, che Flavio, Briatore, ha tentato, di investire, in Puglia, e gli è stato, purtroppo, tolta, questa possibilità, non gli hanno messo in condizioni, di poter mettere un po' di quattrini, e investire in Puglia, amici miei, questo era il video di oggi, dovevamo sentire, Rom Moss, che dice, che la nostra Puglia è bella, la nostra Puglia è bellissima, la nostra Puglia, quelli che non vanno bene, sono i politici, quelli che gestiscono il potere, e non si rendono conto, che bisogna partire, con le stagioni, molto prima, e non all'ultimo secondo, in maniera arrancata, eccetera, sono marine deserte, ci sono marine deserte, che fanno piangere, e non voglio alludere a niente, ma già hanno capito, con chi ce l'ho, amici miei, se vi è piaciuto il video, spero di sì, un bel segui, a tutti i social, iscrivetevi al canale YouTube, Fidio del Puglia 65, Aguila Scoop, il like, i commenti, la campanellina, per la notifica, e come dico sempre, amici miei, più siamo, meglio è, più grande, è la nostra cassa di risonanza, e ho una bomba, ve lo dico la prossima volta, sulla Zanzara, il programma della radio, che è scoppiata, amici miei, vi voglio bene, alla prossima, e, Grazie.